Non è facile fare quello che hai fatto. I miei uomini sembravano agenti sottopagati di un centro commerciale. È offensivo. Graviresti dirmi dove sei stato addestrato? In Afghanistan? In Cecenia? Chi sei tu? Ho compiuto grandi sacrifici per ottenere la pace. Thor, attraverso la tua arroganza e stupidità hai esposto questi tranquilli regni e vite innocenti all'orrore. e alla devastazione della guerra. Sei un ragazzo avido, crudele e arrogante. E tu sei un vecchio e un folle! Non sei degno! Padre... Ehi! Ora mi riprendo i tuoi poteri e ti bandisco! Ti prego, apri gli occhi. Oh no, questa è la Terra, vero? Da dove è venuto? I vostri avi la chiamavano magia e voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono un'unica cosa. Ha disobbedito al suo re. Il suo destino è nelle sue mani ora. Vorrò fine a questo. Il suo destino è un'unica cosa.